Allora andiamo a vedere cosa vedremo in questa lezione, andremo a vedere il mindset del digipreneur. Voglio rendervi partecipi di questa parola che è digipreneur, che non significa solamente imprenditore digitale, significa imprenditore della nuova era digitale, che è un'altra cosa. Infatti il digipreneur è un imprenditore che può vendere qualsiasi tipo di prodotto in una nuova era del commercio. Una nuova era dove anche se vendi, ti faccio un esempio, B2B, magari vendi attrezzi per l'industria, attraverso il protocollo tu puoi farlo nel digitale. Invece un imprenditore digitale è normalmente qualcuno che vende online o comunque si occupa di online e basta, quindi ha sempre servizi non prodotti, è un altro tipo di categoria. Quindi voglio che tu ti definisca digipreneur. Abbiamo creato questa nuova categoria ed è diventato anche un brand registrato, quindi puoi sentirti protetto in questa categoria durante tutto il percorso. Se ti chiedono che imprenditore sei, tu gli puoi dire sono un digipreneur, un imprenditore della nuova era digitale capace di vendere attraverso il web i miei prodotti e servizi, in ogni caso, in ogni circostanza, con qualsiasi restrizione esterna. Andremo a vedere come creare la tua offerta commerciale digitale e definire il tuo posizionamento strategico. Andremo a ripassare il posizionamento strategico, che è il modo in cui tu comunichi chi sei online, ma andremo a vederlo nell'ottica solo digitale, quindi andremo a fare una cosa che pochi fanno in realtà a livello formativo, che è vedere chi sei tu online. Andremo a vedere che è totalmente diverso di chi sei tu offline. Offline può essere tante cose, online deve essere molto specifico. Andiamo a comunicare da subito nel tuo sito web e social media, risollevando il fatturato della tua attività. Quindi io prevedo che se tu hai già un sito web, se non ce l'hai non preoccuparti, lo potrai fare in questi 60 giorni iniziali, anche magari con il nostro aiuto del team di Marketing Genius. Andremo a vedere come, con i cambiamenti che ti suggeriremo questa sera, tu puoi già effettuare alcune modifiche per attrarre contatti e convertirli in clienti, già nei primi 30 giorni. Quindi la nostra promessa era che i primi due mesi sarebbero stati già la digitalizzazione e l'andiamo a mantenere. Andremo a vedere come fare questa sera. Allora, questo è il logo del Digipreneur e sai perché l'abbiamo disegnato così? Voglio spendere un secondo su questo perché voglio veramente che tu ti vedi in questa identità. È molto importante per assorbire il mindset da Digipreneur perché tutti gli altri spicchi di questa torta, che rappresentano il settore in cui operi, sono orientati verso, diciamo, nello stesso verso e hanno un colore spento. Quelli rappresentano i tuoi competitor che si sono arresi, che si sono arresi, che non si stanno evolvendo. Mentre tu ti sei girato dall'altra parte, hai acceso la speranza e sei diventato quella fetta di settore che appunto ha preso anche il colore arancione, che ricordiamo il colore arancione significa benessere, prosperità e soldi. Quindi è molto importante anche capire cosa c'è dietro questo progetto e soprattutto come ti devi sentire tu perché a livello mentale non riuscirai mai a dominare il digitale se tu non assumi questi, diciamo, il mindset dell'imprenditore della nuova era digitale. E questo mindset l'abbiamo già affrontato nell'orientamento ma voglio reiterare queste informazioni in modo che tu le possa fare tu e andiamo ancora più a fondo, andiamo più in profondità. Quindi mi raccomando, è molto importante per te che capisca cosa c'è dietro a questa parola ed è anche una lezione per vedere oltre al tuo marchio e questo lo vedremo poi nelle prossime settimane. Un marchio in realtà comunica molto di più di quello che è il tuo prodotto, comunica chi sei e per cosa ti batti. Pilastro numero uno è rendere l'online la fonte primaria di fatturato nel 2021. Questo è un obiettivo che devi avere, ti assicuro che è possibile, l'abbiamo visto fare a tantissime aziende in qualsiasi settore, ti parlo anche di settori che non possono letteralmente far pagare il cliente online, quindi quando dico rendere l'online la fonte di fatturato principale nel 2021, intendo dire l'online è la tua calamita per acquisire clienti, l'online è la tua fonte inesauribile di clienti in questo anno storico, un anno in cui altre aziende chiuderanno, decine di migliaia si arrenderanno, proprio come gli spicchi della torta Digipreneur, e invece tu hai deciso di reagire e ti stai adattando a una nuova era di cambiamento. Quindi mi raccomando, l'obiettivo è generare contatti dal web e convertirli in clienti paganti 24-7. Quindi se fino ad oggi sei stato abituato ad avere l'attività che chiude a una certa ora, avrai, devi assumere la certezza, che è una certezza, perché il web non dorme mai, che potresti ricevere richieste di preventivo di informazioni 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, e vedremo attraverso il protocollo come strutturare la tua attività, la tua azienda, in modo che ogni richiesta venga soddisfatta e venga ascoltata in tempo record. Quindi il mantra, che devi ripetere, è genero contatti sul web ogni giorno, presento la mia offerta ed aiuto il cliente ogni giorno. Genero contatti sul web ogni giorno, presento la mia offerta ed aiuto il cliente ogni giorno a risolvere i propri problemi. Quindi è tuo obbligo vendere. Questo è un aspetto molto importante, perché a volte sul digitale ci troviamo in una situazione diversa dal normale, ci sono richieste di informazioni di persone che non vediamo fisicamente, e questo vedremo come affrontare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.